Ciao a tutti, rieccoci per un altro tutorial. Oggi facciamo una vecchia porta, credo di un paese francese, è una foto che ho preso da Pinterest, che è praticamente una miniera d'oro per gli artisti. È una porta con sopra una pianta di vita americana, quindi è piena zeppa di colore. Quindi comincio a fare il disegno, chiaramente disegno la porta, il muro intorno alla porta è piuttosto malmesso. Questa è una delle caratteristiche che adoro nella pittura di edifici, cioè più il muro è scrostato, brutto e rovinato e più mi piace farlo con l'acquarello, non solo con l'acquarello, ma diciamo l'acquarello si presta piuttosto bene per questo tipo di soggetto. Quindi la pianta la disegno diciamo in maniera molto molto veloce, tanto poi intervengo subito col pennello per metterci macchie di colore, più che altro è quello. È un tipo di soggetto che mi piace molto appunto perché si può fare a tanti livelli. A me personalmente piace non perdermi troppo in particolari, per esempio un muro di mattoni, non è che farò tutti i mattoni uno per uno, ma semplicemente cercherò di rendere l'idea in modo che appunto sembri un muro fatto con determinate caratteristiche, così anche la pianta. Quindi non è che farò tutte le fogliette una per una pedissequamente, ma cercherò di dare più che altro l'idea del colpo d'occhio di quello che vado a rappresentare. Questo si può applicare un po' a tutti i soggetti. Ora chiaramente questo è il mio modo di fare, non è detto che sia quello migliore. Dipende molto anche dal carattere dell'artista. Io sono una persona piuttosto sbrigativa, per cui non mi piace attardarmi ore e ore sulla stessa cosa, sullo stesso soggetto. Preferisco passare ad altro, per cui diciamo mi fermo appena il risultato mi soddisfa. Ecco. Poi se qualcuno invece vuole continuare a aggiungere particolari su particolari, quello è una scelta personale su cui non mi pronuncio. Chiaramente ognuno ha il suo stile, per cui non penso che uno sia migliore dell'altro. Allora, quindi come ho detto, comincio a mettere le macchie di colore su tutto il foglio. Cerco principalmente di eliminare, prima che posso, il bianco del foglio, perché disturba. Questo si vede anche dalle immagini. Il foglio bianco letteralmente abbaglia e mi disturba nella valutazione dei toni. E quindi vado a coprire quanto prima con un tono di fondo abbastanza leggero, ovviamente, perché trattandosi di acquarello, poi dopo non posso schiarire una volta che ho scurito il tutto. Quindi procedo molto per gradi. Quindi specialmente in un soggetto di questo tipo, devo procedere per gradi, appunto perché devo sovrapporre elementi su elementi, però devo stare attenta a non combinare una frittata definitiva. Quindi vedete che aggiungo colore colore su questa pianta e comincio a definire anche la porta adesso, le varie pietre dell'architrave. Quindi vedete che il soggetto comincia piano piano a venire fuori. Ho imparato col tempo a non valutare quello che sto facendo nei primi momenti del lavoro, perché effettivamente i primi passi in ogni quadro, visti lì per lì, sono terribili. Quindi uno si deprime, no, vede, oddio, cosa sto facendo. E invece bisogna imparare ad aspettare, andare fino in fondo e poi alla fine vedere cosa è avvenuto fuori. Può darsi anche che sia avvenuto uno schifo alla fine, perché succede, ha voglia. Però generalmente durante il percorso si aggiusta un po' qua un po' là e alla fine normalmente viene sempre un lavoro decente. L'importante è non avere fretta e soprattutto appunto non fermarsi alla valutazione dei primi momenti, perché chiaramente trattandosi di un lavoro abbozzato non potrà certo dare la sensazione di quello che viene alla fine. Quindi ecco, un consiglio specialmente per i principianti è quello di non focalizzarsi sulle prime battute, cioè di non giudicare, ma semplicemente di andare avanti a denti stretti e vedere alla fine, trarre delle conclusioni, solamente al lavoro ultimato. Ecco, questo mi sembra... e ci vuole un po' di anni di dilusioni, almeno a me ci è voluto così, per capire questa cosa. Comincio a mettere l'ombra, questo bel colore viola, viola di osseazzina, o violetto di carbazzolo, insomma pv23, come lo volete chiamare. È un bellissimo colore per fare delle ombre, molto forte, quindi va utilizzato con una certa cautela. La tavolozza l'ho modificata in questi giorni, per cui ancora non ci ho preso molta confidenza, quindi ho dei colori nuovi che prima non avevo e quindi devo un pochettino vedere anche come lavorano insieme. Quindi la porta comincia a venire fuori, piano piano, quindi incomincio a evidenziare un pochino le crepe nel muro e tutte le varie ombreggiature, perché chiaramente non è che possa fare il contorno degli oggetti, no? Il contorno è dato dal contrasto fra un oggetto e l'altro o dall'ombra del dato soggetto, per cui appunto vado a costruire con questa modalità, e piano piano si incomincia a vedere questa porta. Ecco, poi una volta, una volta fatto il, diciamo, la pietra intorno alla porta, incomincio a occuparmi delle varie assi, delle tavole appunto di cui si compone, che chiaramente essendo una porta vecchia ha dei colori piuttosto variegati, il legno è abbastanza rovinato, ci sono delle crepe, quindi prendo un pennello più piccolo, più sottile e vado appunto a fare particolari. Adesso sto mettendo dell'erba sotto la vita americana e appunto cerco di mettere dei segni più sottili, appunto per evidenziare proprio delle imperfezioni, delle cose molto sottili, che però mi danno il senso appunto della... di quanto sia rovinata questa porta. Spero. Ho dovuto prendere questo pennello perché quello di prima, il tondo che usavo prima, nonostante abbia un'ottima punta, chiaramente per fare queste cose troppo piccole non va bene, vengono dei segni un po' grossolani. Quindi vado a rinforzare un pochettino anche il colore della vite, quindi delle varie foglie. È uno stadio credo abbastanza autunnale perché ci sono mischiate vari gialli, rossi, verdi, per cui tra un po' diventa tutta rossa. Vabbè, questo è lo stadio, diciamo, probabilmente sarà settembre-ottobre. È il momento in cui la vita americana è più bella appunto perché fa tutti questi... questi colori diversi. E appunto vado a intensificare questi colori, vado a metterne... vado a mettere altre foglie da dove non ci sono. Dove vedo che ci stanno bene. Ecco. Quindi sempre lavorando con quei colori, il cremisi, il giallo e un verde abbastanza acido. E poi a mano a mano procedo perché praticamente l'idea è di lavorare su tutto il lavoro insieme, non sviluppando prima una parte, poi l'altra. Si cerca di tirare avanti tutto il lavoro in maniera omogenea, no? Quindi ora magari mi fermo un attimo, vado, rivado un attimo sulla vita americana, metto un po' d'ombra. Ecco. Quindi adesso tolgo tutto e mi sembra che sia pronto. Se vi è piaciuto mettete un like. Grazie, alla prossima.